Sto facendo le saggicce, il pesce parla, ciao! E' il nome del progetto, il pesce parla, e io sono il frontman del progetto, queste sono le salsicce del progetto, il pesce parla, l'album si chiamerà Pastura, perchè noi buttiamo in mare della roba da magnà, per attirare il pubblico, però senza poi metterci l'amo, perchè siamo buoni, non vogliamo ferire chi poi abbocca, quindi semplicemente gli diamo da magnà, gli diamo da magnà come si fa con i cigni, poi c'è il singolo, il singolo si chiama In Seminario, è una storia atruce, parla di sevizi in Vaticano, da parte dei seminaristi, avidi, di carne fresca, queste cose brutte qua, ma il ritornello fa, non finisce più di farne un tabù, perchè parla del fatto che questi seminaristi sono così castrati a livello sessuale, castrati simbolicamente, cioè non possono avere rapporti per via del, come si chiama, ma il celibato dei preti, il celibato dei preti, e quindi capace che qualche fantasia, qualche solletico, qualche prurito esca fuori nonostante il dogma della castità, questo, ma, e qui viene la cosa curiosa, in realtà il brano nasce, perchè io mi sono svegliato la mattina così, e ho detto, non finisco più di fare il ragù, quindi ho chiamato il pianista, Stefano Zucca, e gli ho detto, Stefano tirami giù questo pezzo, e lui ridendo per questa storia del ragù, non vedo che se ci sia da ridere, l'ha tirato giù, e poi da lì invece del ragù è diventato tabù, e attorno ci ho costruito la storia delle sevizie in Vaticano. Allora, il gruppo si è sfaldato, si è distrutto, disintegrato, siamo solo io, il bassista, e poi abbiamo messo un annuncio in bacheca, sono arrivati otto ottoni, io gli ho detto, ragazzi, mi fa piacere che sposate il progetto, ma non ci serve, è una cosa totalmente diversa, noi ci servirebbe una chitarra solista, elettrica, una batteria, un batterista, anche solo la batteria, poi che magari casca qualcosa e ogni tanto il rumore lo fa, però lo strumento vorremmo averlo, e questi, si esprimono così, e io ho detto, fate un progetto vostro che si chiama otto ottoni, e poi facciamo un featuring, per il resto come va? Qui è Capodanno, in Abruzzo, sono le 21, le 21.02, siamo affa tardi, ormai mi sono sal... Grazie a tutti!